Cosa ha contribuito maggiormente a questa inflazione? C'è ovviamente la componente esterna su cui possiamo fare poco, ma c'è una componente interna costituita dalla modificazione di quello che si chiamano i prezzi amministrati, i prezzi che sono variati dalle stesse autorità pubbliche. Per esempio la luce, il gas, le tarifte dei trasporti, tutti questi aumenti hanno contribuito all'aumento dell'inflazione. Ora io non dico che il prezzo dei mesi di trasporto risponda al costo reale, ma dico che non è in un momento in cui si vuole arrestare e contenere l'inflazione che questi aumenti vanno fatti. Intento dire che il disavanzo di questi enti pubblici da colmare in qualche modo è meno inflazionistico che non l'aumento delle tariffe. Purtroppo non tutti gli economisti sono d'accordo su questo punto, ma la mia opinione è quella.